Noi siamo convinti che questo decreto sia fatto nel modo opportuno e quindi risponde a queste due esigenze, quella fondamentale di dare questa liquidità ormai troppo in ritardo alle imprese con mantenere in linea con i nostri trend fiscali. Io penso che ovviamente miglioramenti si possono sempre fare, quindi aspetteremo a sentire quali saranno quelli proposti. Diciamo che noi siamo convinti che la struttura portante del decreto sia quella giusta.